Oggi è la giornata mondiale della radio. Il tema dell'edizione 2022 è radio e fiducia. La radio infatti continua ad essere uno dei media più affidabili e accessibili al mondo e riuscita ad evolversi ad adattarsi ai cambiamenti tecnologici e sociali, senza perdere l'essenza che la contraddistingue da sempre. La radio è voce. La radio è inclusione. La radio è relazione. La radio è informazione. La radio è il lavoro di squadra. Grazie per le emozioni e gli stimoli che ci regali ogni giorno. Esistono tantissimi motivi per amarla. Qual è il tuo?